Episodio 44 del corso di VBA parte 2 per quanto riguarda gli user form e al momento ultimo video questo corso di VBA potrebbe essere aggiornato ed integrato in futuro ma al momento con gli user form andiamo a concludere questo corso introduttivo. Sapete che andrò a fare una versione più completa nel dettaglio eccetera di questo corso eventualmente sul mio sito e andrò a scrivere tutta la documentazione in italiano di VBA sul mio sito. Ci vorrà un po' però eventualmente date un occhio. Oggi parliamo di list box, combo box e check box. Per fare ciò è utile però parlare di un evento importante che è l'evento initialize. L'evento initialize parla dell'inizializzazione del form ovvero quando effettivamente viene lanciato all'inizio il form. Vi faccio vedere se noi apriamo il nostro form, scusate vado al lato qui e allungo. Non facciamo le cose molto carine eccetera voglio solo farvi derivare i componenti perciò onestamente ce ne freghiamo. E prendo la mia casella di repilogo che è una list box. Vedete? Dovrei inserire i dati di base la raw source che vedete qua. Qual è il discorso? Posso fare riferimento manuale alle celle oppure posso inserirle in modo dinamico non appena parte il form. Quindi se l'utente ha selezionato qualcosa posso prendere quelle cose lì, posso prendere invece i nomi dei fogli che ho a disposizione e quant'altro. Però vado a popolare la casella non appena parte il form perché qua dentro può diventare un problema farlo a mano prima. Nel momento in cui l'utente aggiunge un foglio siamo spacciati. Ok? Nel momento in cui l'utente aggiunge una riga a range siamo spacciati. Di conseguenza lo vogliamo fare dinamicamente. Se io faccio partire vedete che è vuoto. Come posso popolare la list box a prescindere? Dobbiamo utilizzare quello che è l'evento initialize. Quindi ci sono alcuni campi che vogliamo andare ad inizializzare prima che il form venga utilizzato dall'utente. Di conseguenza ci spostiamo qua lato codice. Andiamo a premere su user form e andiamo poi sull'evento initialize. Ecco qua. Togliamo user form click che non ci interessa. E adesso abbiamo il nostro initialize. Vogliamo quindi aggiungere degli elementi alla list box. Mi raccomando per list box, combo box, check box e gli altri che non vedremo. Andate sulla documentazione perché c'è tanta roba, tanti metodi con cui possiamo interagire. Rischeremo appunto di starci qua ore, ore, ore. Vi andrò a scrivere la documentazione che sarà completa. Andrò a fare poi un corso super avanzato che entra nel dettaglio. Ma probabilmente per trattare tutta sta roba parliamo del triplo se non il quadruplo delle ore delicate in questo corso. Quindi vediamo un po' come possiamo fare per cominciare e poi il resto è a carico vostro. Dunque la list box, ve lo dico subito, se noi andiamo a vedere, io premo, si chiama list box 1. Al momento non facciamo i fenomeni, tengo lo stesso nome giusto perché voglio farvi vedere il funzionamento. Abbiamo già parlato dei name, modificare i name, avere una buona nomenclatura. Per ora ce ne freghiamo perché deve passare il concetto. Una volta che tanto l'avete capito possiamo tornare indietro e fare le cose un po' più schifose. Perché? Perché tanto sappiamo come si fanno bene. Al momento deve passare il concetto della list box. Quindi vedete si chiama list box 1. Perciò se io vado qua, vado a scrivere list box 1.list. Vado ad aggiornare la lista e vado a creare un array che sappiamo e dentro ci metto Luca, Marco e magari anche Anna. Perfetto, faccio così, tac, F5 e vedete che ci ha caricato i nomi. Al momento posso selezionarne solo uno. Se volessimo selezionarne di più andate qua sotto dove c'è multi select e voi premete su select multi. Vedete? Anziché select single, select multi. Nel momento in cui faccio F5 posso selezionarne di più. Come possiamo andare a prendere i valori selezionati sul click, quindi sul conferma voglio mandarle a schermo. È molto semplice, ma prima di fare ciò voglio farvi vedere un altro modo in cui possiamo aggiungere degli oggetti. Quindi anziché partire da un array così, potremmo fare qualcos'altro e andare a mettere list box 1.add item e qua come item andiamo a mettere Luca e poi lo possiamo copiare oppure potete usare il width che abbiamo già imparato. Vado a mettere Markup, Markup va bene, F5 e vedete che ha aggiunto gli stessi elementi. Quindi potete partire o da un array, altrimenti li potete mettere in modo dinamico, non è assolutamente un problema. Per quello vi dico di controllare la documentazione del list box, delle combo box eccetera, perché ci sono tanti modi in cui possiamo arrivare allo stesso risultato, ma ognuno è una situazione diversa. All'array potrebbe essere già fatto così, abbiamo il nostro array, lo utilizziamo, oppure potremmo utilizzare add item che ci permette di aggiungere in modo dinamico in qualsiasi momento degli elementi. Quindi ogni metodo fa riferimento ad una situazione diversa, poi ve ne renderete conto quando effettivamente andrete a fare le vostre macro. Per ora restiamo con add item, magari copiamo e aggiungiamo un'anna, ecco qua, tac. E voglio farvi vedere come possiamo andare a mandare a schermo effettivamente i valori selezionati. Allora noi ci mettiamo sul bottone invia e andiamo a fare un bel for i uguale 0, partiamo a contare da 0, to list box 1 punto list count. Quindi contiamo quanti elementi in lista, list count meno 1, perché? Perché si conta da 0 a sto giro. Quindi sapete che se contiamo da 0 il count sono magari 3 elementi, ma questo ha indice 2. Quindi 0, 1, 0, 1, 2. Di conseguenza facciamo così, non abbiamo la i attenzione, quindi dim i as long va più che bene. E adesso for, andiamo a fare next i, sappiamo usare il for, e qua dentro vogliamo andare a vedere se effettivamente è stato selezionato ogni singolo elemento. Quindi Luca è stato selezionato? Sì, lo manda a schermo. Marco è stato selezionato? No, non lo manda a schermo. Anna, sì. Quindi come verifichiamo? If, andiamo a prendere list box 1 punto selected di i, then, cosa facciamo? Innanzitutto and if, e mandiamo a schermo debug punto print di cosa? Di, quindi abbiamo effettivamente l'indice dell'elemento selezionato. Va bene? Di conseguenza, oppure potreste prendere direttamente il valore, ma di conseguenza se è una cosa del genere e faccio F5, vedete io seleziono l'1 e il 2, confermo e vedete che abbiamo 1 e 2. Se io faccio F5 e seleziono, ups, se io faccio F5 e seleziono solo lo 0, confermo e ottengo solo 0. Ok? Quindi ecco come possiamo gestire una list box. Fatemelo ripetere un'ultima volta, mi raccomando su queste cose non andrò a coprire tutte le casistiche, sono tante, sono infinite, potreste voler prendere il valore, potreste voler pulire poi la list box, potreste voler aggiungere elementi più avanti, le casistiche sono infinite. Guardate poi la documentazione. Proseguiamo con la combo box, quindi combo box, prendo la mia finestrella, la combo box è questa, eccola qui, e vedete che qua dentro posso avere degli elementi. Magari facciamola un po' meno alta, si chiama combo box 1, possiamo anche copiare, chiaramente a lato avete sempre le proprietà e a sto giro andiamo sul codice e qua anziché list box facciamo combo box 1, 2 e 3, io faccio play e vedete che abbiamo Luca, Marco e Anna. Se faccio conferma chiaramente non succede niente. Come mandiamo a schermo però ciò che è stato selezionato, questo non ci serve più perché nella combo box ne andiamo a selezionare soltanto uno, di conseguenza ci basta fare debug print di cosa? di combo box punto value, quindi vi dimostro che se io faccio innanzitutto una bella pulizia, vado qua F5, mi metto qui, faccio Marco, conferma e vedete che è stato mandato a schermo Marco. Quindi questa è la base più assoluta delle combo box. Proseguiamo e parliamo della check box, la check box è la casella da appunto ceccare, quindi qui riprendo i miei strumenti, casella di controllo e io vado qua. Questa è la nostra casella di controllo, possiamo anche allargare un pochino, si chiama check box 1, quindi possiamo andare a prendere qua così, perfetto. Non dobbiamo aggiungere elementi, non dobbiamo aggiungere niente, semplicemente quando vogliamo fare conferma mi basta andare a prendere il valore. Quindi io faccio play, check box, conferma, vedete è vero, io tolgo qua e se adesso vado su nostro form faccio ancora play, lascio così, faccio conferma, è falso. Capite bene che quindi per andare a verificare se il valore è vero o falso, ci basta qua vedere se check box o il nome che vi avete dato, punto value, è true o false. Gli altri elementi che abbiamo a disposizione, senza andarle a vedere, sono ad esempio la possibilità di inserire immagini, abbiamo le radio button, che non è la check box che facciamo click sì, click no, ma la radio button è, giusto per fare un esempio, maschio o femmina, quindi abbiamo due bottoncini, se clicco uno si svuota l'altro, se clicco l'altro si svuota il primo. Abbiamo lo switch, il pulsante interruttore, quello che abbiamo spesso sui nostri telefoni, quello che sembra che si sta accendendo. Abbiamo le tab per andare a creare più livelli del menu, abbiamo poi le pagine che sono la parte effettiva oltre le tab, quindi le tab sono la parte selezionabile e la pagina è ciò che vediamo. Dopodiché abbiamo la barra di scorrimento e bene o male gli elementi li abbiamo visti tutti, anzi questa qua in alto, vedete, questa qua è una tab, se ci fosse più roba potrei cliccare e questa qua sotto è una pagina. Quindi questi sono i form, inutile entrare più nel dettaglio perché ogni form, ve lo posso garantire, è diverso, ciò che farete voi non è ciò che devo fare io, richiede tanta calma, bisogna mettersi lì, provare, 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 varie situazioni. Per oggi direi che è tutto, per questo corso al momento è tutto, ripeto potrebbero esserci aggiornamenti, integrazioni, video aggiuntivi, esercizi e quant'altro. Sicuramente controllate sul sito per esercizi a riguardo, documentazione, chiaramente tutto gratuito ed eventualmente se volete un corso 3-4 volte più lungo di quello che abbiamo qua, controllate se sul sito ho già fatto la versione avanzata. Questo è quanto, io vi ringrazio per essere rimasti con me e noi ci vediamo nel prossimo corso. Ciao ciao!